Gentili telespettatori, buona giornata. Oggi la Meloni rappresenta gli operai. La Schlein rappresenta che cosa? L'armocromista? Non lo so. Che cosa rappresenta la Schlein? Quando c'era l'alluvione a Bologna si era nascosta, vi ricordate? La prima alluvione in Emilia Romagna sparita per giorni, si era nascosta, coda di paglia. Adesso Casostellanti, Stavari non dice nulla perché quello là è il Cannes, è proprietario della Stampe, la Repubblica e i principali giornali fiancheggiatori, allora silenzio, è il proprietario dei giornali fiancheggiatori. Chi rappresenta la Schlein? Rappresenta se stessa, rappresenta i politici in Parlamento del PD, ma poi il PD ha qualcosa a che fare con gli operai, gli impiegati, i lavoratori? Molto poco. Ha parlato di salario minimo qualche volta e poi non più pervenuta. Organizza le sciapere, organizza gli scioperi farlocchi con Maurizio dicendo che la Meloni va contro i lavoratori con la finanziaria, completamente inventato, quando poteva per esempio fare lo sciopero dicendo, parlando di salario minimo, no? No. Quindi l'unica cosa giusta, quella del salario minimo, non se la ricorda più. Meloni ragiona su ciò che resta delle fabbriche italiane, difenderemo l'occupazione e l'indotto. Ci prova. Oggi avete visto che combattere contro le aziende è impossibile, perché sono le aziende che comandano. Avete anche visto che in maggioranza c'è Forza Italia, che è un partito che come prima cosa è difendere delle aziende private della famiglia Berlusconi. Quindi capite che oggi mettersi a combattere con le aziende è quasi una partita persa, perché comanda l'economia, comandano i soldi, la politica è al servizio delle aziende. Quindi è un po' complicato. Però oggi la Meloni è l'unica che si dà il compito di cercare di rappresentare gli operai. Questa non è una cosa nuova. Ormai è da parecchi anni che la sinistra, gli operai e le fabbriche, gli impiegati non hanno nulla a che fare. Proprio zero. La sinistra è chiusa a Roma centro, zona pedonale, Parlamento, Carbonara giù nel ristorantino, aperitivo, mi vado a comprare la borsetta, poi vado su a casa lattico, magari superattico, capisco, poi cerco di capire che macchina comprarmi dove andare in vacanza. Ecco, quei politici fanno questo oggi. E il paese è abbandonato. L'unica che ha in mente di difendere, di rappresentare gli operai è la Presidente del Consiglio che, appena Tavares ha dato le dimissioni, ha telefonato a Elkan. Io credo che la Schlein non abbia neanche il numero di questo Elkan. perché, insomma, però capite anche la differenza, la Meloni può parlare con Elkan, la Meloni ha una certa preparazione, studia, si informa e continua a studiare perché nessuno nasce studiato, nessuno nasce studiato, come si dice. Quindi la Meloni quando parla e telefona a Tavares, no scusate, a Elkan, sa, dice, prende degli argomenti, immaginatevi la Schlein che sta giocando con la Playstation, sta giocando con la Playstation, lei lo ha detto, mentre sta giocando con la Playstation e poi mentre gioca, scusa armocromista, devo scendere giù al supermercato, cosa mi metto? Prima mandami il bonifico di 300€, va bene, ti faccio il bonifico, però dimmi che cavolo mi devo mettere per andare al supermercato, mettiti le scarpe gialle, va bene, caspita, metto le scarpe gialle, però più 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 prima devo finire la partita alla Playstation, dice, oh cacchio, devo telefonare a chi? A Elkan? Ma cosa gli devo dire a questo qua? Ma che ne so io di macchine? Ecco, la differenza tra Meloni che telefona a Elkan e parla di economia, di automotive, mentre l'altra sta giocando con la Playstation. Capite che Elkan si trova a ricevere la telefonata di quella che ha fermato un attimo la partita con la Playstation. Cos'è che succede lì? Non ho capito lì? Tavares, cos'è che faceva? Tavares, è una persona Tavares, no? Non è un... Dice, ma Tavares cosa ha fatto? Ma chi era? Cos'è che faceva? Ah, è andato via? Ah, beh, che peccato, mi spiace che è andato via. E adesso cosa pensate di fare? Ah, ecco, mi capirete bene la differenza tra i due politici? Quindi la Meloni cerca di capire come difendere l'occupazione e l'indotto, mentre l'altra cerca di capire come vincere la partita la Playstation. Eh sì, il piano industriale di lungo periodo, quello che tanto dice e parla vuole Lashlein e Landini, non c'è un piano industriale di lungo periodo, e invece la Meloni sta cercando di capire come potersi muovere, ha già organizzato un tavolo con Stellantis per capire e trovare anche magari una soluzione quasi definitiva a questa crisi. La Meloni si sta anche facendo sentire in Europa dicendo che va bene il green, va benissimo l'ambiente, andiamo incontro all'ambiente, però a tutto c'è un limite. Insomma, vogliamo far sparire le case automobilistiche, vogliamo desertificare l'economia europea in nome del verde, va benissimo il verde, ma andiamoci piano, andiamo pari passo, andiamo... ecco, va bene, insomma, io vi lascio con l'idea della Lashlein che gioca ai videogiochi, telefono all'armocromista perché deve andare al supermercato e non sa che colore di scarpe mettere, mentre la Meloni intanto in contemporanea sta parlando con il Cannes per capire che cosa sta realmente succedendo e per capire anche la situazione dei lavoratori nelle fabbriche italiane. C'è una bella differenza e... va bene, grazie a tutti, buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video, arrivederci a tutti!